Luce e ombre in Puglia nei primi nove mesi dell'anno emerge da un sondaggio della Banca d'Italia presentato dal direttore della sede di Bari, Vincenzo Ombrella. I dati positivi emersi la scorsa estate, sia sul fronte occupazionale che su quello dell'export all'estero, lasciavano ben sperare. Per il futuro le aspettative degli operatori risentono ovviamente della situazione di crisi internazionale sulla quale non abbiamo argomenti da dirvi vista l'estrema attualità della cosa. Invece l'andamento dell'economia negli ultimi mesi non ha fatto altro che azzerare quasi quel barlume di ottimismo e fiducia che c'erano soprattutto negli imprenditori. I dati che noi presentiamo arrivano per lo più a giugno del 2011, in alcuni casi ci spingiamo fino a settembre e troviamo che comunque i livelli produttivi sono aumentati e soprattutto per quei settori che beneficiano del traino delle esportazioni. Anche il mercato del lavoro segnala un aumento dell'occupazione, quindi questi sono sicuramente due dati positivi, fra l'altro migliori in Puglia che nel resto del mezzogiorno. Il quadro congiunturale generale è cambiato molto durante l'estate, quindi è ovvio che i dati che noi abbiamo sulla produzione che sono fermi a giugno sostanzialmente e poi le aspettative degli imprenditori si sono un po' deteriorate negli ultimi mesi.